Quest'oggi presentiamo qui a Vietri sul Mare, al Comune di Vietri, il Coffee Festival, un festival del cortometraggio che è rivolto soprattutto ai giovani dai 15 ai 19 anni. Saranno 35 i festival e i film in concorso, un concorso che sarà fatto il 14, il 15 e il 16 dicembre. Devo dire grazie a chi ha voluto fortemente questa iniziativa qui a Vietri sul Mare, l'organizzatore Andrea Recussi, il quale ha già svolto per 12 anni ad Angri questo festival e quest'anno ha lanciato questa sfida, far la Vietri sul Mare e vuole essere un momento per racchiudere e fare una pubblicità differente anche per la costa d'Amalfi. Il periodo scelto è stato dicembre anche per destagionalizzare l'offerta turistica. L'offerta turistica che viene svolta durante tutto l'anno da noi e dall'amministrazione e devo dire quest'anno, grazie all'impegno del professore Luigi Avalloni che è il nostro direttore artistico degli eventi, solo nel periodo natalizio abbiamo ben 54 appuntamenti che sono partiti dal 28 novembre, finiranno il 17 gennaio con viaggio attraverso la ceramica. Il Coffee Festival per noi è un momento importante perché vedrà protagonisti tanti giovani e anche giovani vietresi. In più, nei 35 film che saranno proiettati, 4 saranno girati a Vietri sul Mare. Quindi è anche una pubblicità del territorio far conoscere le nostre vitri, far conoscere le bellezze e far venire, quindi la voglia di venire, scusate il gioco di parole, nel nostro territorio. Diciamo che in occasione del Festival Coffee mi sono cimentato anche nella scrittura di un cortometraggio dal nome Deja Vu e che verrà girato nei giorni proprio del Festival, quindi dal 14 al 16 di dicembre. Sarà una festa a Vietri, un bel festival dove Vietri sarà protagonista in quanto ci saranno set cinematografici dappertutto perché non verrà girato solo il mio cortometraggio ma saranno girati anche altri cortometraggi e ci sarà una vera e propria gara, un concorso con proiezione dei cortometraggi proprio il 16 di dicembre. Che dire, io devo ringraziare soprattutto il Comune di Vietri che mi ha dato questa possibilità di girare, di mettere in opera un mio scritto e soprattutto i ragazzi del Coffee Festival che hanno individuato nella mia figura comunque un autore per uno dei cortometraggi in gara e che dire, sarà una bella festa, vi aspettiamo numerosi anche perché sarà bello vedere tutti i set che saranno sul territorio, quindi chi vuole può venire sul territorio e vedere come si lavora in ambito cinematografico. Quindi vi aspettiamo dal 14 al 16 dicembre a Vietri sul mare. Buongiorno a tutti, sono Gerardo Ferrari, rappresentanza dei Giovani Vietresi. Questa mattina presentiamo il Coffee Film Festival, la prima volta che sbarca nella nostra cittadina di Vietri sul mare. Invito tutti i giovani a partecipare, vi arriveranno tanti registi e attori provenienti da tutta Italia che gireranno film sul nostro territorio. Vi aspetto il 14, 15 e 16 a Vietri sul mare. Salve a tutti, noi siamo qui stamattina per la conferenza stampa di presentazione di questo festival che dopo 15 anni arriva a Vietri sul mare. È chiaro che gli organizzatori hanno avuto bisogno di fare rete sul territorio e quindi come di consueto il nostro contributo è stato quello organizzativo e in particolare abbiamo preparato delle esposizioni di ceramica che saranno operative da venerdì e accompagneranno gli altri eventi del festival. Siamo felici di avere un festival del corto qui a Vietri sul mare perché forse tra le tante attività culturali questa cinematografica si sentiva un po' la mancanza quindi speriamo che accorriate numerosi a vedere i corti e a partecipare a tutte le attività che sono state organizzate per questo festival.